Si fa sempre più difficile la sorte dei lavoratori della Tercop, la cooperativa sociale che si occupa, ricordiamo, della gestione dei parcheggi a pagamento a Teramo. Situazione che si aggrava dopo la recente sentenza del Tarrabruzzo, che ha respinto il ricorso presentato dalla Tercop contro la determina di sospensiva del servizio in attesa della Garaponte da parte del Comune. Sospensiva che, se confermata, porterebbe, secondo la cooperativa, a far perdere il posto di lavoro a 28 dipendenti. Per questo motivo la Tercop chiede che l'amministrazione e gli uffici comunali facciano chiarezza sulla delicata vicenda. Per quanto riguarda il ricorso del Tarra ci sarebbero anche gli estremi per un ricorso, ma a noi non è questo il problema, perché sappiamo che vanno fatto legale da parte, quindi non è questa la questione, l'oggetto del contendere. Praticamente siamo preoccupati innanzitutto da questa specie di mannaia che dagli uffici comunali pente sulla testa di 28 lavoratori sull'eventuale sospensione del servizio. Un servizio che non è stato sospeso negli anni quando doveva essere sospeso, nemmeno a seguito di un esposto alla procura del 2017. non è stato nemmeno sospeso. Ci sarebbe una soluzione prevista dalle normative vigenti, tipo la procedura negoziata che poteva e doveva essere fatta subito dopo l'annullamento della gara per le offerte irregolari. Invece di fare questa procedura gli uffici comunali hanno pensato di sospendere un servizio che avrebbe comportato la chiusura della cooperativa sociale. Cioè invece di risolvere il problema se ne creavano altri e su questo noi chiediamo chiarimenti perché non è stato e perché non è ancora possibile, perché ancora potrebbe essere possibile. Poi si è chiesto anche un consiglio comunale come alternativa, hanno chiesto in alternativa una convocazione del consiglio comunale, visto che si tratta di una gara a ponte di un breve periodo, per rifarla alle stesse condizioni attuali che avrebbe garantito in ogni caso i posti di lavoro, però nemmeno questa viene accettata. Cioè si fa avanti con l'ipotesi peggiore e non sappiamo i motivi. Ovviamente motivi che potrebbero essere a questo punto solo un tentativo di far fuori questa cooperativa sociale.